Musica Quindicesimo capitolo della festa dell'uva a Ligo di Obea con il sindaco Dottor Giovanni Verdi Sì, anche quest'anno ci stiamo, come si dice, ripetendo una tradizione ormai antica che dura da oltre 30 anni solo che come festa è da solo 15 anni, prima la sagra ma sostanzialmente lo scopo è sempre lo stesso cioè quello di promuovere la nostra grande eccellenza cioè l'uva da tavola dell'Igo di Obea perché è una grande risorsa per il nostro paese, per la nostra comunità non solo l'uva in sé per sé ma anche tutto l'indotto che gira intorno alla coltivazione dell'uva da tavola per noi è una grande occasione che cerchiamo ogni anno di presentare al meglio io spero che anche quest'anno ci sono tante attività manifestazioni che ci siamo riusciti e infatti vedo già che c'è tanta gente abbiamo fatto una grande pubblicità speriamo che tutto stasera abbiamo addirittura il Banda Bardot, una grande band nazionale che si esibisce e quindi mi pare che abbiamo centrato l'obiettivo di pubblicizzare la nostra uva da tavola e di avere il piacere di avere tanta partecipazione all'Igo di Obea grazie a tutti grazie a tutti